Il Consorzio BIM di Teramo ha un nuovo presidente. Dopo dieci anni di gestione targata Franco Iachetti, l'Assemblea dei 26 comuni montani teramani hanno eletto alla presidenza per il prossimo quinquennio Moreno Fieni. 34 anni, originario d'Isola del Gran Sasso, esponente del Partito Democratico, Fieni è stato votato da entrambi gli schieramenti politici e promette un forte rilancio delle attività di progettazione e programmazione dell'ente. Il Consorzio BIM come sostiene i comuni della montagna teramana? Il Consorzio BIM è un consorzio obbligatorio di enti locali che nasce dalla legge 959 del 1953 e si occupa di gestire i sovracanoni che vengono dallo sfruttamento delle concessioni idroelettriche. Questi soldi che vengono introditati dal Consorzio vengono poi ridistribuiti ai comuni soci. Lei resterà in carica per cinque anni e cosa pensa di programmare per questi comuni? Bene, dicevo ieri nel corso dell'Assemblea che ha visto anche la mia elezione che quello che intendo fare è fare in modo che il BIM torni a essere un vero e proprio stakeholder istituzionale, cioè un portatore di interessi. La dico magari banalmente, però questo significa che l'unione fa la forza. Quando un ente come il BIM si siede su tavoli di concertazione istituzionali, quali possono essere quelli delle aree interne, visto che abbiamo comuni ricadenti sia nella quarta che nella quinta area interna, piuttosto che contratti di fiume, contratti di lago, contratti di foresta e quant'altro si possa realizzare, allora in quel senso rappresentare 26 comuni su quei tavoli può avere una forza diversa. Domanda di Rito, la prima cosa che farà? La prima cosa che è assolutamente necessaria è l'approvazione del bilancio nell'Assemblea consortile, perché per tutta una serie di motivi è stato approvato a gennaio dal precedente Consiglio Direttivo, adesso i comuni invece hanno bisogno di queste somme, soprattutto dopo quello che è accaduto nello scorso mese di gennaio e quindi velocemente speriamo entro la fine del mese di portarlo in Assemblea per l'approvazione.